Musica Compie un anno il progetto decisamente ambizioso di Menchetti, quello di riqualificare sia dal punto di vista urbano che da quello sociale, un luogo particolarmente caro agli aretini, il Parco Pertini. Oggi in questo polmone verde c'è un punto non solo di ristoro, ma anche di riscoperta di quella socialità che tanto è mancata. Io credo la presenza l'hanno presa bene, se no non saremo qui a parlare di potenziale perché abbiamo visto che ancora c'è margini importanti di crescita. È chiaro che è stata una cosa importante, importante per noi come investimento, ma penso lo sia importante anche per la città. Insomma, il report e il risponso che abbiamo da tante persone sono più che positivi. Bisogna migliorare ancora diverse cose perché a nostro avviso, soprattutto per noi che vediamo spesso e seguiamo molti locali, ancora dobbiamo migliorare alcune fasi della giornata che a mio avviso siamo ancora un po', come si dice, non tanto sottostima quanto non siamo ancora percepiti per quello che facciamo, sicché bisogna darla questa dimensione e far capire che cosa veramente facciamo tutto il giorno. Qui avete fatto impresa sicuramente, ma avete fatto anche un qualcosa di sociale. Sì, è chiaro che la funzione di questo punto e di questa attività non era solo una funzione di beneficio gastronomico, il resto ma era anche un beneficio per vivere di più la città e soprattutto viverla in un parco che credetemi se andate fuori soprattutto nelle città più importanti, che Milano è la più internazionale, cioè in un parco così è facile trovarti 3, 4, 5 attività perché anche d'inverno sono molto frequentati perché la gente chiaramente vuole stare in mezzo al verde, camminare, passeggiare, comunque sia uscire dalla routine quotidiana e questo chiaramente è più comprensibile che nelle grandi città queste cose sia ancora più apprezzate, però vediamo che piano piano siamo convinti che possa essere anche per questo posto. Grazie a tutti!